Buongiorno e bentrovati. Vorrei introdurre un po' di storia della nostra azienda Sicur Salute. Noi siamo nati nel 2010 praticamente introducendo in Italia uno strumento che è andato molto di moda. Adesso è caduta un po' la moda ma rimane molto importante e molto interessante che è l'estrattore di succo vivo. Noi già ci occupavamo di questi temi con un'associazione che operava nel territorio qui del Triveneto e nei nostri approfondimenti abbiamo scoperto in internet questo strumento, siamo andati a verificarlo, abbiamo fatto un accordo e abbiamo importato distribuito già nel 2010, cominciando ad approfondire tutti i temi che riguardavano la salute attraverso questo strumento. Di lì siamo passati a un altro fino ad arrivare a un nostro specifico estrattore di succo vivo che abbiamo modificato, di cui abbiamo fatto un protocollo per eliminare tutte le problematiche che nel frattempo avevamo riscontrato negli altri estrattori che distribuivamo. Però non ci siamo mai accontentati. Abbiamo ampliato la gamma, siamo andati a importare anche altri strumenti, fino a incontrare un'azienda svizzera estremamente all'avanguardia nel settore energetico, nel settore delle energie propriamente dette. Con loro abbiamo instaurato un discorso, abbiamo già iniziato a introdurre una serie di sistemi per proteggersi dalle frequenze dannose dovute a telefoni, a cordless, a cellulari, a circuiti elettrici e così via. In questa discussione è uscita un'idea straordinaria, quella di creare un generatore di frequenze vitali molto potente da inserire sulle nostre apparecchiature. E questo è nato, come dicevo, da questa collaborazione e da questo studio che abbiamo fatto congiuntamente, su che cosa effettivamente sta la differenza tra un prodotto altamente energetico o un prodotto morto. Si parla a volte di acqua e morte, pur chimicamente pure, ma morte da un punto di vista energetico. Non so se qualcuno di voi sicuramente conosca Masaru Emoto, che con le sue sperimentazioni ha dimostrato come l'acqua, ma il corpo umano è il 70 per cento acqua. Diciamo che le cellule del corpo umano sono 90-95 per cento acqua, per cui lui ha dimostrato che l'acqua è suscettibile, l'ha dimostrato con delle foto, ma i concetti erano conosciuti da moltissimo tempo. Come l'acqua, dicevo, è suscettibile nell'assorbimento di tutte le informazioni che la circondano. Informazioni. Quindi l'energia, che è vibrazione, è informazione. E a seconda di questa energia e della frequenza di queste vibrazioni avremo delle energie vitali o delle energie, come si direte perverse, dannose. Bene. E quindi abbiamo sviluppato questo sistema in un prodotto che abbiamo chiamato Goldisk. Goldisk, che è un potente generatore di energia vitale attraverso vibrazioni particolari, prodotte da il cosiddetto magma 13. È un insieme di cristalli che emettono, in quanto energia, emettono delle vibrazioni vitali molto potenti che si trasferiscono di volta in volta o all'estratto, al succo o al latte vegetale o al gelato o all'acqua o all'aria e che in altro modo possono essere utilizzate per proteggerci da frequenze dannose, le quali vengono riarmonizzate, cioè portate a un livello vibrazionale compatibile con la vita, con la biologia del corpo umano e quindi ridiventare benefiche piuttosto che dannose. Ecco ma capisco che per quelli che non sono addentro a questa terminologia, a queste vibrazioni, che è una parola, nessuno le conosce, nessuno le ha viste e diciamo sono ben conosciute, ben approfondite anche dalla fisica quantistica soprattutto oggi, ma dagli addetti ai lavori. Le persone normali non sanno che quindi lavorare con un prodotto o lavorare con un prodotto analogo diverso può esserci una grandissima differenza una grandissima differenza nel processo e nel risultato, cioè nella qualità di ciò che si estrae dal processo. Bene, quindi vorrei un attimo cercare di chiarire questo argomento dando delle informazioni magari anche semplici ma per poter capire e interpretare poi quello che potremmo dire in relazione agli strumenti che adoperiamo e ai risultati che possiamo ottenere. Grazie